Bello ragazzi, io sono Gamby e oggi siamo tornati su Uncharted Drake's Fortune, che è un gioco bello. Eravamo rimasti al capitolo 7, se non sbaglio, non mi ricordo il titolo, però vabbè, bando alle ciance e let's go! Ciao amici! Eh, vabbè, allora, mi ricordavo che eravamo qua... Eh, salve, salve, salve! Madonna! Secondo me no! Infatti lo sapevo, l'avevo detto io, però vabbè... Eh, vabbè... Mica, come è esploso questo! Eh, sì, tua madre è quasi raggiunto, zio. Eh, madonna! È caduto anche un albero in fondo, vabbè, salve albero. Cosa ho visto? Si è scattato una macchina, non so se l'avete notato, però vabbè... Ah, da sola, non ho spaffato niente, vabbè... Madonna, eh, ho capito, ma non posso prenderlo di fianco, porca la mignotta lurida. Giuro che ci sto provando, ragazzi, non so. Muori male, zio. Grazie, va bene. Arrivano dall'anno! Ma vabbè, è un fenomeno questo, ragazzi. Cosa ho visto? Cosa ho visto? Si è scattato contro la roccia e è morto. Grandissimo, proprio, mamma mia. Anche questi, da soli. Dei deficienti, ragazzi, dei deficienti. Va bene. Però a te devi morire male. Puoi notare che, cioè, esplodono le vetture quando io uccido i tizi, cioè, a caso. Guarda che roba! Vabbè, ragazzi, è impossibile. Ma si è schiantato da solo anche quello. Ma perché? Ma cosa stanno facendo? È deficiente, ragazzi, è deficiente. Ma guardali. Ma non sapete fare i mercenari? Ma andate a vendere i panini al Mac? Non so, fate qualcosa. Beh, vabbè. Ma si è schiantato di sotto quello, è un deficiente, meno male. Giusto. Ok, ragazzi, adesso posso lanciare le granate. Beh, vabbè. Ma le cose incredibili. Ma non ho capito perché adesso sì e prima no, però. Cioè, magari potevo lanciare anche prima e sono io stupido. Cioè, sicuramente, sicuramente così, ragazzi. Sicuramente ve lo dico io, ve lo dico io. Perfetto, perfetto. Utilissime le granate, eh. A caso! L'ho preso? Non lo so. No. Non avevo dubbi. Adesso sì. Eh, vabbè. Oddio. Esplosa solo lui e la macchina è rimasta lì. Ci penso io! Beh, l'ho preso anche male, se proprio vogliamo dirla tutti. Madonna, all'ultimo secondo, all'ultimo secondo. Massuca. Come non è morto questo, scusate? Ecco, perfetto. Cioè, quello lì è caduto dalla moto, è rimasto in piedi, non so se avete notato. E poi è esploso. È giusto. Scusami, zio, volevo... Ma questa ruota qua, vabbè. Comunque, ragazzi, un secondo notiamo i paesaggi che sono una roba assurda, veramente. Mh, dai, che ce la facciamo, ce l'abbiamo fatto, perfetto. Ma non ci credo neanche io, però, vabbè, meglio così. Eh, papì. Madonna, madonna. Ok. Afferrò la mia mano. Ok. Bene. Tutto a posto? Sì, sto bene. Ma tu stai sanguinando. Sì, capita in queste zone. Andiamocene di qui. Forza. Tonnazione. Cosa? Forza! Andate da qualche parte? Ehi, Eddie. Pensavate veramente di riuscire a scappare da moi? No, no. Stavo solo facendo fare un tour alla signora. Taci. Sì, scommetto che anche tu lavori per loro. Cosa? Pensavate di potermi fregare e di tenere tutto per voi, eh? Ehi, non muovere. Dannazione, questo è pazzo! Eddie, stai calmo, amico. Beh, la vostra fortuna è finita. E anche la vostra ricerca. Ora, datemi la mappa. Resisti. Va bene. D'accordo, è presto fatto. Ehi, non muovermi. Tranquillo, Eddie. Sto solo prendendo la mappa, come hai chiesto. Ho detto ferma. Lo so, no. Bene, passa qui. Beh, mi hai appena detto di non muovermi. Sembra che dovrai venire a prendertela. Dai, come. Via, via! Madonna, ragazzi! Capitolo 8, città sommersa. Vabbè. È stata una genialata, eh, però. Ce la siamo rischiate in una maniera assurda. Com'è che si fa? Ok. Tua sorella. No, no, no. No. Ok. Ma devo trovare un posto. Ecco, perfetto. Però allora sarei bastardo nella vita, eh. Ok. È questo che continuano certe minchia di granate. Madonna. Tua sorella! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Ok, ok. Non è morto, vabbè. Immortale. Se esci un secondo, magari. Madonna. Va bene. Madonna, vai, vai. Ti faccio il culo. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Prendiamo questa. No, 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 via, via via, dietro. Perfetto. Madonna. Allora, in teoria questa è forti... Sì, magari se lo becchi, però. Sì, magari se lo becchi, però. Sì, magari se lo becchi però. Perfetto, perfetto. Ok. Beh, ok, è una mazza, perché ci sono ancora. Però, eh... Madonna. Allora, ragazzi, adesso mi concentro per fare tutti e shot. Adesso vedrete. Sì. No, ho finito le munizioni, ma proprio adesso. Ah c'è uno qua, salve non l'avevo vista Ecco perfetto Perfetto ragazzi Ce l'abbiamo fatta, adesso tiriamo su questo cancello E andiamo avanti Diciamo che è stata una genialata Però un rischio assurdo, se metti in caso che cadevamo male Morivamo, sto zitto Vieni a vedere Ok, vedi l'edificio nella baia Tutte le imbarcazioni in arrivo nella colonia dovevano scaricare lì Quindi se il tesoro di Eldorado è arrivato sull'isola Devono averlo fatto entrare da lì Un attimo, cos'era quello? Cosa? Riavolgi Sì? Sì, ferma Proprio qui È la nostra via di uscita, forza La nostra via di uscita Vuoi rinunciare? Non hai notato che siamo solo in due? Finora ce la siamo cavata Elena, non voglio il tuo cadavere massacrato sulla coscienza Andiamo Per favore Rinuncia se vuoi, ma non usarmi come scusa Bene, lo faccio per me, ok? Voglio rinunciare Pensi di venire o no? Allora è così Vuoi lasciar perdere il tesoro e dimenticare Drake? Dannazione, non vale la pena morire per questo Ok 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 Senti Dobbiamo tornare alla baia in ogni caso Non preoccuparti Possiamo litigare più tardi Sarà fantastico Aspetta Stavolta Guido io Ok Ok Fortunatamente qui No Salve Perfetto E dov'è? Dov'è? Non lo vedo Ma non lo vedo Ma non lo vedo Non lo vedo Ragazzi con calma Ce la faremo Ce la faremo Ve lo dico io Guarda Perfetto Perfetto Ce l'abbiamo fatta Incredibile Ma dove è finito il mio razzo? Ma ok Ok I bug incredibili Cos'è successo a questo posto? L'intera città è inondata Beh ho notato anch'io Ho notato anch'io Ma è un po' tipo Venezia ragazzi Però un po' più inondata Diciamo malino Rispetto a Venezia Però più o meno Non siamo lì No Eh vabbè Grazie 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 Va Aspetti Aspetti che devo passare Devo passare Mi scusi Grazie Grazie Mi fanno esplodere loro le bombe Grandissime ragazzi Siete i migliori Vai Apriti la strada Fai qualcosa Nella tua vita Ma dai Eh vabbè Dai che ce la faccio Ma cosa Ma cosa Cosa ho visto Cosa ho visto Ma ce l'avevo fatta Ma porco Il calendario morto Comunque ragazzi Meno male Che abbiamo munizioni Fondamentalmente infinite Perché altrimenti qua Era un problemino Ok Fatto fuori anche questo Tra l'altro mi è caduto addosso Come si permette Lei è l'urido laido Madonna Ok C'è altra gente? Ho visto Muoversi lì Vabbè Non me ne frega niente Io vado eh È stato bello È stato bello giocare con voi Però io adesso Devo andare avanti Col gioco Quindi arrivederci Ma Sono andato È andato dall'altra parte Benissimo Devo dire Proprio una meraviglia Eccola Ok Ora dobbiamo trovare Una via d'accesso Sai Ho la tua strada Circa un tesoro inca Maledetto Non pensi che Ti prego Non dirmi che credi A questa roba Era per dire È successo Qualcosa di strano Qui Un'intera colonia Non svanisce così In nulla Già Sono d'accordo Lo scopriremo Ragazzi Ah perfetto No Ero stato zitto Perché pensavo Che partisse Una mega cinematica Invece No Andiamo a vedere Sì anche secondo me Perfetto Ovviamente Tutto io devo fare Grazie mille Ok Ok Esatto Sto dicendo anche io Bellissimo Tra l'altro ragazzi Volevo dirvi Che Appunto Non voglio più parlare Durante le cinematiche Però fatemi parlare Luridi Guarda che roba Ok Headshot Dai No Come non ho fatto Headshot Giuro che non lo so Ok Vai Esci Madonna Perfetto Madonna No 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 Sì Sì Va bene Va bene Va bene Madonna Ho fatto la finta Ho fatto la finta Ho fatto la finta Easy Madonna ragazzi Succa Perfetto ragazzi No stavo dicendo Prima che qualche deficiente Mi sparasse Che vorrei evitare Di parlare Durante le cinematiche Così almeno Ve la godete A pieno Ecco E intanto io Non posso parlare Perché mi sparano Sì Va bene Riparo tua madre Perfetto Ho visto No no Ok Posto Finiti Vabbè Io nel dubbio Mi riprendo il mio pompa Che Un proiettile Ma c'era gente Allora Guarda che infame Salve Torni a trovarci Perfetto Ok È morto Anche Male Vabbè Perfetto ragazzi O comunque Nonostante sia Tantissimo Che non ci gioco Ragazzi Me la cavo Con la mira Cioè Meglio di prima Che facevo abbastanza cagare Vai Salga Salga Non mi cincischi Che sono due scalini Ne ha fatti una marea Lei nella sua vita Ok Siamo arrivato alla fune No Mi piacerebbe Ok Se cadeva Vabbè Lasciavo il gioco Cosa ho visto Cosa ho visto Cosa ho visto Non lo so Salta Perfetto Eh vabbè Ci penso io Spara Per uccidere tua sorella Ecco infatti Però che Allora I problemi Risolveteli Ok Le cose Incredibili Vai Salta Perfetto Ho sempre un po' di ansia Quando faccio queste parti Ragazzi Perché A volte Cade da solo Vai Ci penso io Ci penso io Ok Vai Venga con la barca Perfetto Capitolo 9 Alla torre Vabbè Tutto ok Sì Ragazzi Fermi tutti Fermi tutti No Pensavo ci fosse un'altra Mega cinematica Invece no Io stopperei qui Per oggi Perché abbiamo giocato Non lo so Però Vabbè abbiamo giocato un bel po' Abbiamo visto un po' di cose Un po' di azione L'abbiamo vista Anzi parecchia Userei dire Quindi ragazzi Spero che il video di oggi Vi sia piaciuto Se fosse così Mi raccomando Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi E noi ci rivediamo In un prossimo video Bella ragazzi E noi ci rivediamo E noi ci rivediamo E noi ci rivediamo